Abbiamo trovato sangue, nel vero senso della parola, con un freddo feroce per 30 giorni consecutivi a raccogliere le firme per poterci presentare. Ed è doveroso ringraziare tutti questi ragazzi, giovani, meno giovani, che sono stati qui con un freddo feroce. Addirittura abbiamo fatto qualcosa come 5 tavoli ininterrotti, dalle 10 la mattina.